Da un solo chicco di grano un'enorme montagna e da un solo infinitesimo istante di vita 3.000 condizioni possibili. Da una sola frase l'energia dell'intero universo. Da una sola persona che apprende e fa il tesoro dell'arte di vivere deriva un mondo migliore. La società e persino la terra cambia a seconda dello stato vitale del popolo che vi abita. Il potere di trasformare l'ambiente risiede nel cuore dell'essere umano. Una grande rivoluzione umana e nella vita di una persona può cambiare il destino del genere umano e del pianeta. Buon anno a tutti. Happy Year!